Il 22 gennaio 1905 è sferrato un colpo decisivo all'impero degli zar di tutte le russie. Il prete Georgi Apolonovich Gapon, alla testa di oltre 100.000 lavoratori, si dirige al palazzo d'inverno, sede dello zar Nicola, per chiedere riforme contro la miseria dilagante. Lo zar non è presente a palazzo e la polizia, convinta di trovarsi davanti a una folla ostile, apre il fuoco, lasciando a terra oltre 100 morti.